Scusate se approfitto della televisione, senti Gerardo, io capisco che tu mi abbia chiesto in prestito ancora una volta la mia autovettura per arrivare riposato alla fiera del mobile per ufficio ad Alba, capisco anche che nessuno ti ha avvertito che ad Alba la fiera del mobile per ufficio non c'è mai stata, capisco che hai dirottato su un'altra fiera che con il mobile per ufficio non c'è niente a che fare, ma quello che non capisco è, se sei così tentato dalla mia Fiat Tipo, ma perché non te la compri?